Anche gli altri ospiti, grazie Nessi, se vuoi rimanere così ti faccio una domanda anche su quello che sta succedendo in questo liceo. Dunque, Roberta, sono scesi dal provveditorato, vedo Dalia che conosco per una sua vicenda personale ma che ha raccontato, ciao, grazie di essere con noi, che ha raccontato anche di aver frequentato questo liceo e di aver incoraggiato anche le ragazze a denunciare proprio perché lei ricorda benissimo che gli stessi atteggiamenti che quel professore aveva con queste ragazze erano gli stessi che aveva tanti anni fa. Allora, a te Roberta, Fausto e Dalia. Sì, Eleonora, Fausto fa parte della delegazione che è appena uscita dall'ufficio del provveditorato, quindi adesso chiederemo a Fausto tu come è andato l'incontro. Dalia sappiamo che da lei è partito tutto attraverso i social, che ha aperto una pagina sui social e ha raccolto le denunce di tantissime ragazze e ragazzi che dopo la sua denuncia hanno detto anche a me è capitato raccontando la propria vicenda e raccontando anche il rapporto, il clima che si viveva in quell'istituto. Parlo subito prima con Fausto per capire come è andato l'incontro, cosa avete consegnato, voi avete dato in mano un foglio con delle richieste specifiche, che cosa vi ha detto il referente? Ci ha detto che girerà il foglio, girerà le nostre richieste, lei inoltre ha quelli che sono gli uffici anche più competenti, dato che lei si occupa di docenti e persone alleata, quindi la manderà a quello che è l'ufficio scostico regionale per quanto riguarda i dirigenti, quindi per quanto riguarda le nostre richieste di sospensione della preside e della dirigente, poi invece per quanto riguarda le nostre altre richieste sono state addirittura mandate al Ministero dell'Istruzione, noi abbiamo chiesto più cose, abbiamo chiesto del supporto psicologico all'interno delle scuole per queste cose che avvengono, per molestie, per gli abusi, abbiamo chiesto soprattutto, è un nostro cavallo di battaglia, abbiamo chiesto l'intervento, la partecipazione attiva di quelli che sono i centri antivilenzi territoriali all'interno delle scuole, è più che necessario, è anche sancito da quella che è una direttiva ministeriale, ma non viene mai applicato, magari per fondi, magari per altri motivi, ma alla fine le vittime vengono sempre lasciate sole. Questi sono i ragazzi che vogliamo, questi sono i ragazzi che vogliamo vedere. Dalia, intanto ciao Francesco, buongiorno a Marco Ferraglioni, ciao Francesca Natta, allora ciao Francesco Fredella, Dalia, a te. Ciao, ma guarda, oggi mi sono commossa perché vedere un enorme corteo così, nato tutto dalla voglia di gridare a gran voce basta abusi all'interno delle scuole, basta utilizzi di poteri impropri senza un effettivo senso, se non il fine di restituire un'immagine corretta alla scuola con una reputazione limpida e impeccabile. ed è stato bellissimo vedere così tante persone anche dalla provincia cosentina farsi ore e ore di pullman per arrivare qui stamattina, è stato toccante, movente ed è effettivamente quello speravo che accadesse. Ovviamente il fine ultimo di tutto questo movimento, di tutto questo disordine, è quello di poter essere davvero tutelati, tutelati e tutelato all'interno dell'istituto scolastico e all'interno di tutti gli istituti scolastici nazionali. Dalia, secondo te perché questa preside non aveva fatto nulla per insabbiare, per nascondere, per mentalità, per sottovalutazione? Dimmi quello che pensi. Perché voleva salvare la reputazione dell'istituto all'interno del quale ha lavorato per più di 17 anni, voleva poter creare una ottima immagine della Castro Libero bene. Castro Libero è il comune in cui appunto è collocata la scuola e doveva essere, secondo il suo progetto personale, un qualcosa di eccelso, un qualcosa di eccellente in tutti i campi. Ovviamente l'abuso e il sopruso da parte di un professore non poteva rovinare questo suo piano. Senti, Dalia, io ti faccio questa domanda. Tu sei una ragazza molto coraggiosa che ha avuto il coraggio di denunciare anche cose ben peggiori, cioè oltre alla gravità di quello che stiamo raccontando ancora più gravi. Però io rimarrei su questa storia. Ti chiedo questo. Questo professore diceva, ricattava alcune ragazze, almeno questo Giulia, noi l'abbiamo chiamata Giulia con un nome di fantasia, questo Giulia ci ha raccontato in diretta, ok? A fronte di una fotografia con il senno nudo, questo professore diceva, io ti do la sufficienza, cioè o ti boccio o ti promuovo, questo era il ricatto, ok? Per cui non il voto più alto, ma addirittura la bocciatura, la promozione rispetto alla propria materia, chiaramente. Ora mi chiedo, secondo te quante ragazze possono non aver avuto il coraggio di raccontare e quante bocciature o promozioni sono arrivate nel corso di questi anni falsate? Perché vittime di azioni ricattatorie. Certo, allora c'è da considerare una cosa molto importante, vale a dire che all'interno di qualsiasi classe tenuta dal professore in questione c'erano circa una decina di ragazze, tutte e dieci queste ragazze, facendo appunto una stima approssimata, una media molto approssimata, ricevevano ogni giorno, quotidianamente, in una maniera costante, delle molestie verbali e psicologiche da parte del professore. Adesso non so quante di queste avranno avuto il ricatto, come ha avuto la ragazza che appunto Giulia ha parlato da voi, di utilizzare delle foto di nudo del proprio seno per poter avere una sufficienza. Io banalmente penso che la storia di Giulia non sia unica, penso che la storia di Giulia sia abbastanza condivisibile, nonché condivisa da tantissime altre ragazze che hanno avuto il professore come professore. Non solo all'interno della nostra scuola, quindi del Valentini Majorana, ma anche all'interno della ex scuola in cui lui lavorava e da cui è stato trasferito proprio perché appunto vennero fuori queste molestie. Quante ragazze hanno avuto poi il coraggio di denunciare oltre Giulia? Perché mi sa che ce n'è un'altra di ragazza, vero, che ha parlato o che vuole parlare? Rionora sì, in totale sono tre con Dalia, perché Dalia è stata ascoltata, quindi ha formalmente, si è stata solo ascoltata come persona informata dei fatti o hai presentato denuncia? Ho presentato denuncia. Quindi Dalia è la terza persona vittima delle presunte molestie sessuali del professore che ha presentato formalmente denuncia, quindi al momento sono tre e sappiamo che la seconda che ha denunciato un ex liceale, la sua denuncia è molto, molto circostanziata, quindi ci sono dei dettagli che vanno oltre, forse avrà del materiale anche telefonico. Quindi sappiamo che al momento sono tre, ma le indagini sono in corso, siamo nella fase delle indagini preliminari e potrebbero essere tante altre, anche perché con questo movimento che si è creato, un vero e proprio Me Too, tante ragazze stanno avendo il coraggio di farsi avanti e quindi forse anche avranno il coraggio di denunciare. Cosa vi hanno risposto al provveditorato? Cosa vi hanno detto al provveditorato ragazzi? Soddisfatti? Ci hanno detto al provveditorato che prenderanno delle misure, che ovviamente i procedimenti sono in corso e essendo uno Stato di diritto dobbiamo aspettarli. Certo, non ci aspettavamo nulla di più di ciò, ma abbiamo fatto presente soprattutto la mancanza di assistenza per le vittime. La mancanza di assistenza e di educazione, non solo per le vittime, non solo per riconoscere una molestia, ma soprattutto insegnare ai professori a non molestare. E anche ai ragazzi. Ai ragazzi ovviamente, rinsegnare ai ragazzi a non farlo, ai ragazzi a riconoscere cosa è una molestia, perché le ragazze hanno sempre detto non sapevo che quella fosse una molestia, non la potevo come tale, poteva essere un atteggiamento, uno scherzo. Adesso è iniziata l'educazione, noi abbiamo già sensibilizzato, non lo stiamo facendo, ma bisogna educare anche i prof, bisogna educare chi molestia. Ok, allora, adesso facciamo questa cosa. Marco Ferraglioni, buongiorno. Tu hai figli adolescenti? Sì, esatto, ho due figli adolescenti, ho due figlie. Ecco, cosa pensi di quello che sta succedendo? Ma intanto questa piazza, questa denazio di questi ragazzi, questa rivolta che c'è stata, questa manifestazione, sta arrivando in tutte le case italiane. Purtroppo di questi fatti ne sono successi tantissimi in questi anni. In Italia non è il primo, non è l'ultimo, e purtroppo bisogna intervenire. Ora, quello che io aspetto come cittadino italiano, come papà e anche per tutti quanti quei ragazzi che sono in piazza e le loro famiglie, aspetto due risposte. Intanto quelle dell'amministrazione di queste scuole, del Ministero dell'Istruzione, anche dell'assessorato alle politiche, all'Istruzione della Calabria. e poi, se verranno poi queste responsabilità di questo professore, verranno accertate fino al terzo grado di giudizio, aspetto anche delle pene pesanti. La società si è buttata in piazza, insieme all'associazione, è un grande segnale molto forte, questi ragazzi stanno dando, e quindi io come genitore chiedo giustizia nel caso in cui queste responsabilità siano accertate. E la mia più grande storia dell'età, come papà, a queste ragazze che sono più o meno dell'età degli eviti. Ecco, tu Francesca hai una bambina molto piccola, no? Quanti anni ha? Ora sei anni. Sei anni, ecco. però pensa che fra sei, sette anni, nell'età, diciamo, che poi è quella di Brando, no? Sì, Brando, 16 anni. Nell'età, insomma, dell'adolescenza, cioè da quando si passa dall'infanzia all'adolescenza, le accada una cosa del genere. Che tipo di scuola una mamma vorrebbe? Ecco, parliamo dei genitori, che noi stiamo parlando di tanti alunni, no? Tanti alunni che coraggiosi si sono ribellati, ma i genitori, no? Sono a fianco in questa manifestazione ai loro figli. Non li hanno lasciati soli in piazza, capito? Questo è forte. È fondamentale il sostegno di un genitore e quando si ha una figlia femmina, ma anche l'educazione del figlio maschio, cioè imparare a rispettare se stessi, anche inteso di rispettare il proprio corpo, oltre che i propri pensieri, il proprio modo di relazionarsi, insomma, nella società. Quindi che queste cose non accadono, scusate, è una cosa molto scioccante, perché la violenza e l'essere mettere come una forma di commercializzazione poi del proprio corpo è veramente una linea molto sottile. Cioè anche la stessa pubblicazione di una foto è una forma di violenza, di una mancanza di rispetto del proprio corpo. Cioè mandare la foto nuda del proprio seno verso il professore, a questo professore che ti sta ricattando. È una forma di ricatto. Allora, io vorrei innanzitutto capire adesso questa manifestazione, come sta procedendo. Adesso voi siete lì fermi al provveditorato. Francesco, fra l'altro, nei social, Fredella, questa cosa sta avendo anche molto supporto da tutti, perché io vorrei dire, e questo Dali e Fausto lo sanno, che ci sono altre manifestazioni in Italia, in alcune scuole, in alcune piazze, proprio, diciamo, quasi a supporto di quello che sta succedendo. Praticamente, Eleonora, dalla piazza reale di questa città si va alla piazza virtuale con tantissimi ragazzi e genitori che si accodano e che in qualche modo cercano di ribellarsi e di protestare. Sono dei ragazzi, posso dire, che veramente hanno grande coraggio e hanno fatto bene a scendere in piazza con i loro genitori. Io però credo che serva non soltanto la giustizia, serva la velocità della giustizia, perché non possiamo aspettare delle indagini o dei processi fino al terzo grado di giudizio che magari vadano avanti per dieci anni. Qui dobbiamo dare delle risposte concrete a questi ragazzi e a questi genitori, ma alla società in generale, in poco tempo. Quindi io mi auguro che la magistratura faccia subito le indagini e ci sia la verità assoluta su quello che potrebbe essere accaduto. Ovviamente uso il condizionale, perché c'è la presunzione di innocenza. Però questi ragazzi davvero hanno dimostrato tanto, tanto coraggio e hanno, secondo me, aperto una strada. Cioè, magari ci sono casi analoghi in altre città e altri ragazzi potrebbero, grazie a questi studenti, ribellarsi nello stesso modo. Trovare il coraggio di denunciare. Allora, Dali e Fausto, scusatemi, perché poi immagino che voi dovete continuare questa manifestazione. Lunedì riaprirà la vostra, diciamo, idea di ritornare in classe o no? Cosa succederà lunedì? Che cosa vi aspettate da oggi? Voi sapete che è stato pubblicato, anzi, se possiamo metterla in grafica, così lo diciamo anche per i telespettatori che si fossero collegati ora, una nuova richiesta per una nuova preside, di fatto. Insomma, mi sembra di leggerla così. Non so, ditemi voi. Cioè, una risposta è arrivata, voglio dire. Allora, non è una richiesta di reggenze. Eh? Dimmi. Non è una risposta, più che altro. Semplicemente è successo che probabilmente la nostra dirigente ha fatto un passo indietro e durante il passo indietro va nominato un reggente. Però quando finisce, diciamo, questo periodo di riflessione della nostra dirigente potrà tornare al suo posto, diciamo, spodestando il reggente che adesso c'è, che ci sarà, anzi. E ovviamente per quanto riguarda un ritorno a scuola che penso che fosse la domanda che sta per arrivare su cosa succederà lunedì, lunedì noi torneremo a scuola con una nuova consapevolezza. E vorrei anche dare una risposta a chi dice della velocità, a chi dice che dobbiamo aspettare. Non ci interessa adesso il processo penale. Noi non siamo un tribunale. Noi vogliamo cambiare dal punto di vista istituzionale. Perché se escono quelle che sono mele e marce è per come ci si prende cura dell'albero. C'è qualcosa che non funziona. Se si pensa al nome della scuola è perché a seconda del nome della scuola, a seconda del numero di iscritti, i presidi prendono il loro stipendio. Bisogna fare attenzione a queste cose. C'è un problema sistematico. C'è un problema sociale. Bisogna intervenire lì. Grazie Fausto. Grazie Dalia. Io apro. Ho due minuti di chiusura.